Siamo al Monza Rele Show e siamo con Danilo Fappani e Matteo Romano che fra un attimo saranno impegnati con i rispettivi piloti nello shutdown. Allora a proposito di questo io avrei bisogno di un navigatore per uno dei prossimi rally dove posso trovarlo? Su findyorkodriver.com Spiegateci un po' questa vostra nuova iniziativa inaugurata oggi se non sbaglio. Sì esatto da oggi è online il nostro sito che si chiama findyorkodriver.com e è un'idea che c'è nata un paio di mesi fa perché spesso navigatori o piloti chiamano me o Danilo dicendoci se conosciamo un navigatore disponibile, se c'è qualcuno che può correre eccetera eccetera. L'abbiamo detto perché non creare un sito che raggruppa tutte queste richieste per fare in modo che gli utenti cioè sia i navigatori sia i piloti possono andare e cercare se hanno bisogno di un navigatore per una determinata gara. Danilo in due parole come fa un ragazzo, un navigatore che vuole che vuole rendersi disponibile tramite il vostro sito? In pratica dovrà iscriversi, adesso fino a quando l'Axai non avrà diramato l'effettivo calendario, le iscrizioni non si sono ancora aperte, però da quel giorno il navigatore si può iscrivere e potrà dare la disponibilità per le gare in calendario ad ogni weekend. Contemporaneamente anche i piloti potranno accedere e vedere se ci sono navigatori disponibili per questo evento, per ogni evento. Perfetto, perché abbiamo chiarito che non è un sito di appuntamenti ma è un bel servizio che non c'era ancora su internet. Sì, diciamo che è un sito per appuntamenti tra piloti e navigatori, però diciamo che è qualcosa che abbiamo voluto fare per rendere più veloce l'incontro tra richiesta e offerta di piloti e navigatori, quindi crediamo possa essere un servizio utile sia per i piloti sia per i navigatori. Perfetto, Danilo ci ripeti esattamente il nome del sito? FindTheOrcoDriver.com Benissimo, adesso pagate Pegno e la vostra gara qui al Monza Rally Show, Matteo Romano con Tony Cairoli, 8 volte campione del mondo MXGP, quindi un numero 1, per me è un grandissimo onore poter correre con una persona così importante e in più è anche una buonissima persona, quindi è veramente un piacere sia sportivo sia umano poter condividere l'abitacolo e questa gara con lui. Danilo Fapani con? Sì, io qua correrò come al solito con Franco Zeni, anche io sono onorato di correre con lui perché lui ha fatto tutte le edizioni tranne una, è sempre un piacere anche perché lui ci tiene a far bene in questa gara e so che cerchiamo di fare al massimo, l'anno scorso abbiamo ottenuto la vittoria nel Master Show nella categoria WRC 2000 e il nostro obiettivo è quello di accedere al Master Show e poi vedere se riusciamo a vissare la vittoria. Ricordo che è un corrido appunto con la Subaru quest'anno, una cosa il tuo pilota ci diceva ieri, Pierfranco, che spera nella pioggia, cambierà tanto con la pioggia? Spero nella pioggia nel senso che noi tre settimane fa abbiamo fatto la rondi Monza, in quella situazione il tempo era più o meno come oggi, abbiamo avuto dei buoni riscontri dunque penso che possiamo partire molto bene, naturalmente sappiamo che l'elenco partenti è veramente di ottima qualità, ogni anno è sempre meglio, dunque è difficile anche per noi entrare nelle prime posizioni, però siamo qua per fare il massimo. Bene, in bocca al lupo per questa avventura di oggi e per l'avventura informatica. Crepi il lupo, grazie.